Ovviamente ha cambiato un po' anche la posizione di Kaka. Intanto c'è la partenza di Shevchenko, cerca di farsi vedere Kaka Shevchenko. La conclusione! Il gol! Il gol di Shevchenko. Rete di Shevchenko. L'ha fatto sicuramente la cosa più difficile della partita. Un gol veramente che non ci aspettavamo per la difficoltà nel trovare quell'angolo alla trentatresima. Incredibile il gol di Shevchenko. È un gol che veramente, lo sono contento, è un gol che lo incoraggia. Se lo meritava in fondo perché ha sbagliato le cose più facili. Le cose difficili è riuscita a farle. Guarda, ha fatto un gol incredibile. Quando sembrava qui, ha fatto finta. Se ha centrato, vedi? Quando sembrava che intervenisse l'Edesma. Ecco, vedi? Qui ha fatto finta. Rientra. Eccolo lì. L'Edesma è andato forse troppo molle. E qui ha fatto un gol incredibile. Complimenti a Shevchenko. E qui ha fatto un gol di polls.